L'ospedale San Donato di Arezzo verso un vero e proprio restyling. Sono infatti in arrivo 10 milioni di euro per interventi di ristrutturazione e d'ammodernamento del presidio ospedaliero aretino. Serviranno, è stato mai detto, per le nuove sali operatorie, per l'ospice, per il trasfusionale, a tanti tanti microinterventi che erano molto attesi ad Arezzo. Gli interventi non si limiteranno al presidio ospedaliero aretino. Sono infatti previsti interventi nell'intera provincia aretina. Nel prossimo triennio verranno spesi 90 milioni di euro, coprendo così tutte e cinque le zone della provincia e dell'intera ASRA di aria vasta. Un piano molto complesso che spero di poter presentare sin dalla prossima settimana, che stiamo concludendo gli ultimi dettagli, dentro mettendoci i tanti interventi, incluso gli interventi per l'antisismica. Riguardo al funzionamento della sanità in Vallichiana, nei giorni scorsi, aveva espresso la propria preoccupazione il segretario provinciale del PD, Massimiliano Dindalini, chiedendo all'azienda ospedaliera la definizione di una strategia organica per il futuro della sanità nella vallata in questione. Stiamo valorizzando il ruolo dei presidi minori, come l'ospedale della fratta, che è indispensabile per quella zona grande, con 54 mila abitanti, che svolge un ruolo di riferimento specialistico per quei 54 mila abitanti. Naturalmente, che non vuol dire che ci si fa la cardiochirurgia, però tutto ciò che ci può essere fatto, ci deve essere fatto ai massimi livelli, con l'ottima qualità necessaria.